Io sono particolarmente orgoglioso di raccontarvi come sono entrato in Ferragna perché all'epoca c'era il cosiddetto cambio, si entrava in Ferragna per padri che andavano in pensione o parenti. Invece nel 1993, che è stata una delle ultime, chiamiamola così, infornate numerose di assunzioni, Ferragna aveva un sacco di curriculum, tutti volevano andare a lavorare in Ferragna, fecero dei test per far entrare dei ragazzi nuovi, tutti neodiplomati o più o meno, in giro di pochi anni. Questi test consistevano in una parte tecnica riguardante, io ero perito meccanico alla meccanica e una parte di cultura generale. Eravamo penso più di un centinaio, io sono orgoglioso di dire che nei primissimi che hanno chiamato c'era il stato scritto. Dopo una settimana feci i colloqui, molto impegnativi e rigorosi, severi, dalle otte e mezza del mattino fino all'una dell'ora di pranzo, con sette responsabili di area. E' stato abbastanza impegnativo, un ragazzo giovane, comunque era stato emozionante. Mi congedarono con il classico, le faremo sapere. Io arrivai a casa, abitavo circa 10 chilometri dal stabilimento a Cosseria, mia madre mi disse, guarda che è mercoledì, due giorni dopo vai a fare le visite per entrare a lavorare. Una bella sorpresa, una bella cosa. Molto, molto bello. Allora io veni assunto nei reparti di stesa, operatore di reparto. Come tutti i reparti, gli anziani del reparto dicevano, questo è il reparto, il cuore di Ferragna, perché qua si stende, qua mettiamo... Dissero che era il reparto più importante, ma in realtà una catena produttiva, tutti i reparti hanno il loro ruolo, per cui uno non può fare a meno dell'altro. Andrei subito negli ambienti a luce controllata, mi occupavo di bianco e nero, perché praticamente noi stendevamo le lastre, i semi lavorati, gli assi, facevamo, di lastre radiografiche lunghi circa 2 chilometri e 4 per 1 metro e 35, e si stendeva l'emulsione su questi supporti che ci arrivavano da un'altra affigliata 3M, che era quella di Caserta. Un bel reparto, con i piani, diciamo così, alti, dove si preparavano le soluzioni e le gelatine da dosare e stendere, fino alla sala di stesa, dove c'era un estrusore, l'emulsione veniva dosata sul supporto che attraverso un complesso impianto essiccava, via, asciugava ed essiccava fino a potersi arrotolare. Dopodiché questo semi lavorato veniva mandato al reparto di converting. Ferragno è uno stato, un continente, per cui specialmente quando sei in un reparto non sai bene cosa fanno dalle altre parti. Poi per la mia esperienza professionale ho capito come gestire, però subito. Noi avevamo il reparto EF che ci preparava la gelatina, quella con l'argento, che erano proprio dei veri e propri blocchi di gelatina a dadoni dentro i bidoni, era una affare anche bella da toccare. Le soluzioni ce le fornivano i reparti chimici, quindi noi mettevamo tutto dentro dei pentoloni che venivano agitati, mescolati, aggiunti. Dopodiché andavano in queste caldaie di rifusione di reparti a luce controllata che venivano mescolate tra di loro e portate alle giuste temperature, dopodiché si creava questa emulsione finale che assieme agli stati di protettivo e vari altri stati necessari per la stesa andavano proprio in produzione e venivano messe sull'asse. Quindi noi polveri, noi dell'H5 non abbiamo mai maneggiato. L'EF, discorso diverso per l'EF e i chimici che non sono molto, ci afferrato scusca la fiera. La stala distesa è una saletta piccolina dove c'erano praticamente gli arrivi di tutti questi fondi, di queste bacinelle che erano sopra al reparto di rifusione. Un sacco di valvole e filtri sul pavimento e dopodiché venivano convogliati e messe un esplosore. Era praticamente una macchina, mi pare che era 23 gradi di inclinazione con delle filiere dalla quale uscivano degli strati. Con un meccanismo sofisticato, la creazione del vuoto con una bacinella che aspirava di sotto e lo scorrimento di un supporto che arrivava dai piani inferiori, questa praticamente si creava una cascatella come un fiume, un piccolo fiume di spessore piccolissimo che veniva man mano portato via da questo supporto. Un supporto che ruotava, portava via, si incollava, si figgiava. Aveva subito, appena uscito dall'esclusore, era circa più di 30 gradi, andava ad impattarsi col supporto e passava in una sala in piano ancora che si chiamava guaina, c'erano 10-12 gradi e figgiava subito. Questa gelatina, chiamiamola gelatina liquida, finiva sopra il film e si figgiava, rimaneva in piano così. Dopodiché, dopo aver passato i primi 20-30 metri in piano e con una forte delta di temperatura per modo da renderla un po' consistente, entrava in un essiccatoio in vari loop che attraverso la, sempre con curve studiate, variazione di temperatura e il calore, il soffio da questi loop che praticamente il film viaggiava su un cuscinetto d'aria, toccava solo un po' di rulli il meno possibile, però veniva fuori e rimaneva completamente asciutto e si avvolgeva poi sull'asse. In fondo c'era una sala che si chiamava avvolgimento, dopodiché questi assi qua si arrotolavano, diventavano sempre più grossi fino a noi avevamo 2.400 metri, poi tagliavamo e tutto in continuo. Ovviamente il problema era questo, chiamiamolo così, per i profani, fiumiciatelo, questo ricolo di emulsione, scusate per i termini se non sono più appropriati, doveva essere continuo, perché altrimenti si interrompeva il processo, per cui anche gli assi avevano un sofisticato mezzo di, c'era una macchina detta incollatrice che faceva sì che attraverso un magazzino il processo fosse sempre continuo, che all'esclusore arrivasse in continuo un supporto, diciamo così, in movimento. Per i primi anni, che poi sono stati una parentesi, non la totalità del mio percorso in ferragna, il ciclalino della fine dell'asse, perché alla fine dell'asse vieni di questa intermittenza fino a quando ti dice, ok preparatevi, adesso cercando, faceva una serie di operazioni, perché anche gli operatori lavoravi 5 minuti a prendere, a montare sull'asse, metterla in collatrice, poi aspettavi che finiva a mettere l'altro, idem all'avvolgimento, tagliavi quando arrivava la coda dell'asse, arrotolavi e preparavi per predisponervi con un'altra bobina per l'arrivo dell'altro asse. Il ciclalino, e poi il famoso Zaccaria, questo muletto che viaggiava su una pista magnetica, tra la sala di svolgimento e avvolgimento, allora l'H5 penso che era più di 500 metri di firme, l'H6 è ancora più alto, forse 700, non so io, per cui tra le due sale c'erano parecchie, poi l'H non so 600, questo muletto portava i carrelli vuoti dallo svolgimento all'avvolgimento, poi all'avvolgimento ci attaccavamo all'altro carrello pieno e portavamo il deposito degli assi. Il Zaccaria si sentiva quando arrivava, perché ovviamente al buio aveva quattro lucettine piccoline e il rumore, si sentiva. Tutti i prodotti erano, cioè l'impianto era tutto messo a terra al massimo, però dipendeva un po' dalla struttura, adesso qua vado un po' fuori dal seminato che non è mio compito, dalla struttura del prodotto, dai cristalli, alcuni prodotti soffrivano di effluvi, erano praticamente dei piccoli fulmini che vedevi sviluppati sulla pellicola, per cui bisognava stare attenti, specialmente quelli di concezione vecchia, mi ricordo l'era dei prodotti vecchi che era faticoso, bisognava avere particolari accorgimenti, velocità ridotte e quant'altro. Ovviamente a velocità maggiorate era più creazione di corrente statica. Poi c'erano i vecchi, tra virgolette, noi siamo entrati perché nel giro di lì a due anni andavano in pensione parecchie persone, per cui prendevano si vestiti neodiplomati, per poi, innanzitutto, diciamo, riavviare il ciclo operativo nei reparti, poi magari successivamente fare un minimo di carriera per poi gestire delle posizioni impiegatizie a livelli un po' ospedale. Per cui era così. Io entrai, non si vedeva niente, ovviamente aveva un ambiente nuovo, mi diceva, te oggi guardi e basta. Io, per dire, al giorno d'oggi sembra follia, però era anche giusto, questi anziani dei reparti avevano paura, innanzitutto, che ti facessi male. Perché, sai, l'entusiasmo, poi la voglia di... e aggiunta con la luce controllata, che poi ci si abitua dopo mezz'ora, non è un problema la luce, perché poi... e... dovevi subito guardare, 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 poi pian pian cominciavano a farti qualcosa di... io mi stufavo, mi annoiavo i primi giorni, perché... già il rispetto che avevi e tutte queste... però stavi lì e... passava poco il tempo, cioè... preferivo sempre fare un po' qualcosina, però, pian pianino, poi si è acquisito autonomia e sicurezza, che anche loro ti lasciavano fare tutto quello che si doveva fare. Ci... non dico ci coccolavano, ma quasi, i giovani, quelli che si davano da fare, a me, cioè, ti trattavano tutti bene, si stava bene, ti insegnavano tante cose, te entravi, tu ricordi, in una piccola elite, mai avrei pensato di dover cambiare lavoro. Aveva una storia incredibile, c'era sempre stato, i vecchi dicevano, ma c'è sempre stato, poi quando cominciato a andare a male, si intravedeva, i prodotti erano, tra virgolette, maturi, ma... era un euphemismo. C'erano a Ferragna, avevano sempre lavorato, qualcosa faremo, cioè, non c'era quella sorta di... invulmerabilità, che pensavano di avere, però i tempi cambiano, cioè, era poi... cioè, non era più attuale, non sarebbe stato più attuale. Io mi ricordo una cosa che... ho fatto tantissima formazione che abbiamo fatto anche da neoassunti, da ragazzi io... ci fecero un corso che io stentavo un po' capire il significato subito, e c'era un'insegnante della Bocconi, ci spiegava il ciclo produttivo di ogni prodotto industriale, ci diceva, lo studio, la realizzazione, tramite un grafico, la lancia sul mercato, il massimo consenso sul mercato, massime vendite, poi l'inevitabile declino, no? Allora io che ero un po' curioso, dicevo, ok, era due o tre mesi che lavoravo in fronte, ma i nostri prodotti dove sono di questo ciclo qua? Rullini fotografici e lastre radiografici. Ci fa, dove sono? io, sperando di essere... sono qua, sono in cima, possono solo che decadere. E io gli chiedi, ma allora bisogna sperare che ci siano già dei prodotti nuovi dietro? Cioè, che adesso ci mettiamo a studiare dei prodotti nuovi da fare? Lui ci fa, no, no, sono anni che dovrebbero essere già pronti questi prodotti, pronti per uscire, quelli nuovi. E questa cosa mi lascia un po' il tempo che trovò perché io ero operaio. Poi capì, quando poi più avanti, che non c'era nessun prodotto. Questo è tragico. Questa cosa qua mi è rimasta, mi rimarrà a mente tutta la vita. Non c'era più niente. Gli impianti, tipo il nostro impianto di stesa, nostro. L'impianto di stesa è un colosso altamente specializzato. O ci fai passare del supporto e ci butti sopra della roba che ha un valore aggiunto, oppure lo butti via. Quando lo rivieghiamo, dopo le feste, dopo le ferie o dopo le fermate, i motori ne accendevano tre alla volta, altrimenti la centrale termoelettrica, beh così adesso non sono sicuri su queste cose, però si diceva che la centrale termoelettrica non ce la faceva. Consumi altissimi e specializzazione elevatissima. Per cui quando ho provato con micro poroso, carta in jet, quelle cose lì che praticamente mettevi un valore aggiunto nullo rispetto a cosa potevi vendere, erano già casse da morto. Cioè non serviva a niente, un quadro metterci l'argento, farselo pagare, convertire, quella roba lì non serviva a niente. Io non ero consapevole a mille per mille. Ho avuto la fortuna, dopo un paio di anni, di andare qua al QC Process e poi fare il coordinatore degli ispettori dell'H5 e poi seguire i prodotti come responsabile di prodotto. Penso anche di essere particolarmente anche meritato sicuramente, però una scelta dell'allora capo che quando andò in pensione, questi nostri responsabili di prodotto che erano due persone che arrivavano dall'erre, erano dei, tra virgolette, dei, guardavi un po' come dei santoni. Il mio capo, il genio Torcello, decise di, invece di, non so, per fare un paragone calcistico di andare a comprare il campione da un'altra squadra, di prendere un ragazzo dal vivaio. Mi diceva baby sitterato, controllato, perché… però ho avuto questa fortuna, per cui ho avuto, ho visto anche da un altro punto di vista tante altre cose, sono cresciuto tantissimo e ho visto la realtà con altri occhi. Io ero consapevole perché ero in contatto con altre persone, di… un po' di tutti i reparti, di chi, eccetera… e… diciamo che mi sono allargati un po' gli orizzonti e era più facile. non so se il sentore era quello, però tutti ne erano. Per male che stavi non stai mai, i tempi attuali sono molto diversi, per cui non sono imparagonabili rispetto a quello che era una volta. per cui anche la persona che, tra virgolette, andava male, non era avanzata perché, cioè, faceva le sue otto ore, il lavoro era pulito, quindi magari in certe zone c'era un po' più odore, puzza, però c'erano mille attenzioni alla sicurezza, a tutto, ti sentivi protetto, ti sentivi comunque… non c'era niente fatto a casa, per cui ti sentivi privilegiato. E adesso, secondo di poi, vedendo le realtà, produttive, industriali, non puoi lamentarti di qualcosa che c'era a Ferragna. Poi è chiaro che nel contesto 15 anni fa, quando magari qualcuno avanzava, qualcuno no, diciamo un po' di malumore c'era, perché… però è così, la vita è così, qualcuno va, qualcuno è più fortunato, qualcuno no, qualcuno ha la capacità, non è riuscito ad andare avanti, qualcuno per episodi… Dico, io, la fortuna è stata quella lì, la fortuna, tra virgolette, perché anche lui si era fatto i suoi conti, cioè, un vecchio funzionario guadagnava tot, metteva un ragazzo che aveva un buon bagaglio, che si dava da fare, tecnologicamente più innovato, che usava più certi strumenti, tipo computer. Cioè, noi abbiamo passato anche a quell'età lì, siamo dai rapportini a mano alle relazioni via, ai fogli Excel e tutto il resto. Io ho imparato subito, non essendo un genio, per carità me la cavavo, altre persone che stipendiate il doppio di me facevano fatica. Da noi si faceva da mangiare, se c'erano delle pause previste, perché non maturavano, si organizzava, mi ricordo pesci fatti di notte, con puzza di fritto dappertutto… se c'era… purtroppo c'erano anche dei tempi tecnici di fermato, oppure se ne approfittava di queste cose qua, si stava in compagnia, non era come potrebbe essere adesso… cioè, si faceva di tutto per stare anche un po' bene, anche sul posto di lavoro. Erano… erano altri anni, c'era ancora anche… scelta un po' più… più voglia di scherzare, un po' più di spensieratezza, per cui… questo cosa si traduceva anche sul posto di lavoro, sì sì sì. Noi avevamo tanti ragazzi giovani, sì, a 23, 24, 25 anni, così… Poi il lavoro non è mai stato pesantissimo, si che ne dicano, negli altri reparti, forse nei reparti di converting, era un po' più duro, un po' più rispetto ai nostri, anche se i nostri nelle sale, diciamo, basse della K5 si viaggiava già… e… tempo per… c'era tempo, via. Nei laboratori c'erano ancora delle signore, però diciamo che tutte nell'arco di 5-6 anni andavano in pensione, ragazze, giovani, in produzione non ne sono state più quasi assunte, nel reparto di stesa, neanche nei laboratori. Diverso in converting, sia al G che al D c'erano delle ragazze, per tanti del lavoro le hanno ancora assunte, però diciamo che l'ultimo che abbiamo visto erano quelle a contratto, a 6 mesi, qualche turnazione così… qualche ragazza è ancora entrata, da noi non ce n'erano. Il dramma più grosso, diciamo così… a parte che diciamo, prodotti che non fosse di ultima generazione si sapeva, però non si sapeva quanto sarebbero andate, no? A un certo punto, Ferragna 3M vendete tutti i brevetti a Kodak per quanto riguarda il medicale. E noi producevamo… adesso non ricordo… ma circa 24 milioni di metri quadri possibili, al top delle… i metri quadri di lastre radiografiche in assi, ovviamente. e con Kodak ci fu un paio d'anni, praticamente tutta la produzione nostra era marchiata Kodak e pure i brevetti sono stati venduti. Per cui noi sapevamo che quello era all'inizio della fine, ha fatto due anni di fuoco. L'inizio della fine è stato il primo luglio del 96, con la creazione di Emation. Lì abbiamo già capito… Lì c'era la famosa mano con la bacchetta magica così. Era uno spin off di 3M, era chiaramente… su prodotti… il taglio del ramo secco in italiano era… e dopodiché appunto la vendita dei… di tutto a Kodak, la nostra produzione, tutti i brevetti… poi ripartimmo, ci fu l'anno zero come Ferragna… adesso non mi ricordo, prima mi ha cambiato il 59… e dai 24 milioni di lastre siamo fatti 4, 4 e mezzo… le arti grafiche quasi sparite perché c'erano anche le arti grafiche… dovevi rientrare come Ferragna contro Colossi come Kodak che ti avevano spolpato… Fuji, Agfa… come facevi? ovviamente le regole del mercato sono cambiate… non possono ad esempio farci così tutto il mercato italiano… si chiede… lì c'è stata proprio la caduta dei volumi… e di conseguenza tutto il resto è drammatico… perché poi… vabbè… c'è stato il… il periodo del commissariamento… e tutto il resto di conseguenza… perché poi… con quei volumi lì non puoi mantenerti… tutto la centrale, i nostri reparti… non era possibile… non era possibile… per cui… poi c'è stato anche già la fine dei progetti di low cost… sulle emulsioni… che tanto… era come un… tentare di mantenere in vita un paziente novantenne… molto malconcio… e… dopodiché così… volumi bassi… disinteresse totale… cioè… purtroppo… vabbè… io ne rendevo conto che… noi eravamo talmente grandi… talmente… uno cerca di far tutto per la sua ditta… per mantenere il suo posto di lavoro… però lì… se sei su un Titanic… e… trovi la falla… e non puoi svuotare col tuo secchiello… cioè… lì… purtroppo… con tutte le buone intenzioni… tutto il sacrificio che poteva fare… alla fine non c'era più niente da fare… ma nessuno non poteva più niente… cioè… dovevamo pensarci… qualcuno avrebbe dovuto pensarci anni prima… per cui… e… quando… ci fossero i primi… primi ridimensionamenti… cominciate… poi… cosa succede? una piccola guerra dei poveri… poi c'era quello… l'auditta… che non… ci hanno cominciato gli scioperi… le… diciamo… l'agitazione… e tutto il resto… e… io ho sempre cercato di fare secondo coscienza… però… ci sapeva… io… ho sempre stato consapevole che il percorso portava in un punto solo… smantellamento… ridimensionamento… e… eh… tante incognite… basta… per cui abbiamo fatto gli scioperi… abbiamo fatto tutte le manifestazioni… Ferragna… era… non… dico… nei miei reparti… diciamo che… persone iscritte al sindacato… non ce n'era… quasi… non dico che non c'era motivo… perché il sindacato se c'è… c'è sempre motivo di esistere… per carità… però… non c'era quasi… non c'era quasi… contenzione… si stava bene… penso sia stato uno dei stabilimenti… con percentuali più basse… di… di persone con la tessera sindacale… poi… alla fine ce l'avevamo quasi tutti… perché… i sindacati… erano un mezzo… per andare a parlare con la proprietà… per… per… devi dargli supporto… nel senso che… se loro rappresentavano cento persone… in tutta la fabbrica… in tutte che andavano là… e… però… diciamo così… si è creata questo affanto mio… questo… quest'ultimo… tragico… comico… atto… teatrale… che… ha portato… alla fine… noi abbiamo lottato… ci abbiamo fatto… ci siamo andati a Roma… ci siamo andati… abbiamo bloccato l'autostrada… io mi ricordo benissimo… il giorno dell'autostrada… un freddo cane… cioè… io mi ricordo anche delle cose… che sono state… altrettanto formative… rispetto a esperienze di lavoro… che… è stato un momento che… l'impute era quello di prendere l'autostrada e entrare… arrivavano i poliziotti… eravamo una ventina a sfondare il cordone dei poliziotti subito… se non entravi subito… non entravi più… perché poi… facevano il cordone dei poliziotti… e quando ci siamo… guarda questa cosa… questa qua… è una foto che è ancora chiarissima… ma anche dei colleghi che possono testimoniare… ci siamo girati a chiamare in forza… spingiamo che… entriamo… c'è un… lì al Vispa c'è una piccola rotatoria… c'erano due poliziotti… due… quattro… cinque… sono anche delle donne… cioè… si poteva forzare… chiamavi la gente… non veniva nessuno… cioè… camminavano dal… sul posto… da fermo… eh… io lo so chi c'eravamo… a spingere… per… per… forzare quel cordone lì… lo so… si contano… su due mani… quattro… cioè… una ventina di persone… e gli altri… si… ci tengono al posto di lavoro… poi non vogliono scomporsi… hanno paura di… mettersi conto… cioè… siamo entrati in autostrada… per fortuna… poi abbiamo bloccato… ma… erano atti simbolici… per dire… se qualcuno potesse fare col chiaro… non può… non può fare niente… nessuno… per aiutarci… poi sono arrivati… il battaglione… la Genova… quelli… ci hanno fatto spostare… anche perché… non aveva senso… poi c'è… per fortuna… noi non eravamo degli esagitati… anche i poliziotti… sono persone con… con senso… con… ci hanno detto… spostatevi… abbiamo… ci siamo scansati… da autostrada… è andata… non si è fatto quasi male a nessuno… e questo… c'è stato… qualche episodio… un po' così… però… cose grosse… non sono mai successe… bloccate dal Vispa… più volte… iniziative… prefetture… un'odissia… comune a Cairo… tutte tappe… quasi… non so come dire… calvario… continuo… però… non si… cioè… si faceva perché… si tentava di dare un segnale… però… sinceramente… quando sei lì… sei alla fine… ma… la colpa non sono delle istituzioni… o di chi non ci ha salvato… ma la colpa è che non c'è stato il rinnovamento… assolutamente… punto… quando passo il mio è un gruppo al cuore… cioè… allucinante… ma ancora… infatti a volte lo evito proprio… cioè… non ci passo quasi mai… ogni tanto però ci devo passare… magari in bicicletta… io vado un po' in bicicletta… ci passo lì così… la guardo… pian piano… ti prende quella… quella tristezza… adesso il mio reparto è ancora in piedi… l'H5 è tutto in piedi… insomma… però altri li hanno buttati giù… dietro hanno spianato tutto… hanno fatto la strada nuova… non so come dire… una… un'attrazione che c'è ancora… però… è dolorosa… adesso Ferragna comunque è… è proprio… tutta triste… cioè… prima passata… io mi ricordo… il parcheggio pieno… l'H5 era… quando… era… è l'ultimo dei reparti… quello contro… contro il muoto… parcheggiavi… a inizio parcheggio grosso… se facevi due dieci… lì praticamente sotto il distributore… adesso forse… non sono ancora aperto… io… ci mettevi dieci minuti ad arrivare al reparto… facevi tutto… cioè… adesso… è sempre vuoto… il piazzale è vuoto… cioè… tristezza… porca miseria… mi porto dietro… è il fatto che… purtroppo… a un certo punto… questo percorso… ho dovuto interromperlo… mi sono… tra virgolette… autolimitato… non c'è più una realtà… produttiva così fiorente… che ti faccia crescere… mentalmente… e come… lavoratore… come persona… come tutto… ancora un peccato grosso… sono arrivato a metà… della strada… tutto lì… cioè… adesso devo cercare… di continuare… a guardare le cose… con lo stesso… però… lì… era un continuo… molto stimolante… come in realtà… tutto lì…